Poi, come osservavi giustamente, battezziamo i nostri articoli con un nome che spesso viene ritamato sul prodotto che contraddistingue da un lato il nome del prodotto o la linea e dall'altro il litraggio, anche perché, ripeto, per un consumatore orientarsi in un'azienda molto tecnica come siamo noi, può essere complicato, perché appunto noi facciamo per uno stesso segmento tanti prodotti perché ognuno corrisponde a un tipo di utilizzatore e a un tipo di performance che quell'utilizzatore ha bisogno per la sua specifica attività, quindi l'esigenza di distinguere banalmente fra genere. Noi ad esempio abbiamo degli zaini dedicati alle donne perché ergonomicamente il fisico della donna è diverso da quello dell'uomo, per cui abbiamo una linea di zaini da trekking apposta disegnati per le donne perché ergonomicamente rispondono al loro fisico.